Un caro saluto, un caro saluto a tutti da Diego Fusaro. Avrete senz'altro letto, anche perché se ne discute molto in queste ore, l'articolo apparso su Repubblica, rotocalco turbomondialista, voce del padronato cosmopolitico, l'articolo che campeggiava sulla prima pagina di qualche giorno addietro, non ricordo esattamente il giorno ma fate presto a verificare, a caratteri cubitali, titolava il rotocalco turbomondialista, ci vogliono più immigrati, ci vogliono gli immigrati, servono gli immigrati, questo era il messaggio e poi nel sottotitolo si diceva che era la voce delle grandi imprese che hanno bisogno di braccia in Italia e quindi torniamo al vecchio tema che più volte abbiamo affrontato. Chi ha letto il mio libro Storia e coscienza del precariato, edito da Bompiani, sa di cosa stiamo parlando, perché il tema dell'immigrazione e della sua funzione ultracapitalistica è al centro del testo, insieme al problema del precariato, ebbene, in sintesi, il grande capitale ama l'immigrazione di massa, ma è chiaro il perché, perché significa avere braccia a basso costo, che non hanno coscienza di classe, che sono sradicate dalla loro terra, che non sono sindacalizzate, che non sono avvezze al welfare state e quindi si possono sfruttare molto agevolmente, ecco perché ai padroni piace tanto l'immigrazione, non certo per ragioni multiculturali o di accoglienza. Primo. Secondo punto, grazie alle braccia a basso costo che giungono dall'Africa, il capitale può abbassare i costi della forza lavoro in generale, grazie alla legge della concorrenza. Se tu, lavoratore italiano, facevi a 10 euro ciò che adesso il nuovo arrivato fa a 2 euro, non sarà lui ad avere poi 10 euro, ma sarai tu a doverti abbassare a 2 euro per poter competere con il nuovo arrivato. Quindi, seconda funzione, connessa alla prima dell'immigrazione di massa, permette al capitale di abbassare i costi della forza lavoro, grazie all'esercito industriale di riserva, come lo chiamava Carlo Marx, cioè grazie a una generale concorrenza al ribasso. Terza funzione, magnificata dalle classi dominanti, è creare conflitti orizzontali all'interno della stessa classe, tra migranti e autoctoni, favorendo l'orizzontalizzazione del conflitto, utile a ciò che il conflitto non si ridisponga mai nella forma basso contro alto, lavoro contro capitale. Ecco perché i giornali e le trasmissioni allineate al pensiero unico soffiano illimitatamente sul fuoco della lotta orizzontale fra gli ultimi. Rispetto a tutto questo, le sinistre, se non fossero sinistre, arcobaleno, fucsia, guardie del padronato cosmopolitico, dovrebbero difendere le ragioni del lavoro e quindi dei migranti e degli italiani, dei lavoratori in generale, e invece dicono aperti i porti, libera circolazione delle merci e delle persone, che significa libero processo di sfruttamento capitalistico. Insomma, la sinistra ha tradito Marx e Gramsci e le classi lavoratrici ed è divenuta come sempre organica, proprio come la destra, al padronato cosmopolitico no border.